Un saluto da Jack Bonora. Voglio proporvi un'editoriale a distanza di due giorni dalla sconfitta della Virtus in finale Scudetto. Lo faccio anche un po' entusiasta perché l'editoriale che ho fatto subito al termine della partita ha registrato al momento 12.000 visualizzazioni, 200 like e ovviamente un'infinità di commenti con persone concordi con la mia analisi e altre assolutamente in disaccordo. La riassumo, non vi costringo a rivederlo. Semplicemente ritengo che Milano, giocando una partita da 6, abbia battuto una Virtus che ha giocato da 5. A Milano, dominante da Tome, non c'è neanche un dubbio. Poi, secondo me, da 6 in pagella nei piedi a Enserici, poi 6, 6 più, fate voi. Ma per il resto non ho visto niente di clamoroso e non c'è stato bisogno di niente di clamoroso con una Virtus modesta. Dire che la Virtus non si è, come ho detto, non presentata, credo che sia una semplice constatazione, ovviamente non un'offesa, e nel contempo non tolga assolutamente nulla al fatto che Milano abbia meritato di vincere, evidentemente abbia anche messo la Virtus in condizione di non giocare la propria migliore pallacanestro. Ma l'idea è che al di là del buon lavoro di Milano e di Messina, la Virtus proprio non ci fosse. In tanti mi hanno detto, eh ma la Virtus è arrivata cotta, come fai a non capirlo? Beh, due giorni prima, non venti, la Virtus era tutt'altro che cotta. Aveva battuto il 19 Milano giocando una splendida pallacanestro molto molto fisica. Ma 48 ore ed ecco che la Virtus si scioglie come neve al sole. Quindi mi fa anche sorridere perché abbiamo passato giorni a guardare le tabelle dicendo, visto come Scariolo ha dosato alla perfezione il minutaggio dei propri giocatori, a differenza di Messina che invece gli sta spremendo, bene, il risultato è che a gara 7 la Virtus non c'è stata e Milano ha vinto con la pippa in bocca e le pantofole. Chi vince festeggia, chi perde spiega, mi dicono tanti lettori o ascoltatori, e dico sì, è vero, quindi spiego quello che è accaduto, no? Però, prima di tutto, ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza ad ascoltare il mio editoriale, di commentare, anche di non essere ovviamente in accordo con me, però secondo me è stato molto bello perché ha aperto un dibattito e come sempre le riflessioni anche di chi non è disaccordo mi aiutano a migliorare. Adesso però bisogna un po' guardare al futuro e anche un po' al passato, perché da un lato si possono dare dei voti. Intanto che voto do alla Virtus? Io sto a cavallo del 6, ve lo dico sinceramente, se qualcuno vuole metterci un meno faccia lui, non vado sicuramente oltre il 6. La Supercoppa per me vale come il playground dei Giardini Margherita, anzi, io ne ho 25, vi garantisco vale meno la Supercoppa, però per quanto riguarda la Coppa Italia, nel momento in cui tu vai in finale con Brescia, mi spiace ma devi vincere, ah poi non solo non hai vinto, quasi come con Milano non sei entrato in campo, sei rientrato nella partita forse perché l'altra squadra non è Milano ma è Brescia e hai comunque perso una finale. Tu mi perdi la finale di Coppa Italia con Milano? Io dico, vabbè, bravi loro, era bello vincere ma è Milano, se poi avvi con Brescia hai fallito. Eurolega, io ricorderete forse i miei primi editoriali, ho sempre detto questa non è una Virtus sicuramente da playoff, è una Virtus che può provare a dare la caccia ai playoff. Il problema è che non è arrivata a non, è arrivata a quattordicesima, a parte qualche battosta pesantissima, comunque è arrivata a quattordicesima, quindi va bene, un anno da rucchi, abbiamo vissuto alcuni bei momenti, degli scalpi anche prestigiosi, Real Madrid, Barcellona e via dicendo, ma la sostanza è che sei arrivato a quattordicesima. Finale scudetto ci arrivi per default, su quello non abbiamo neanche un dubbio. Nel dubbio l'hai persa, poi lui mi può dire, l'hai persa 4-3 con Milano, ok, la partita decisiva non l'hai persa di 3, l'hai persa di 12 giocando in maniera imbarazzante. Insomma, dirvi che è un 6, mi sento già abbastanza generoso. Questo non toglie che vi siano stati tanti momenti belli nella stagione, capiamoci. Però, 6, e secondo me sono già un signore. Non entro nelle pieghe tattiche, perché molti dicono Messina, ha tatticamente incartato Scariolo. E questo mi fa ridere, mi fa ridere perché un grande affetto, un faregname, un idraulico, un cartolaio che vanno a fare le analisi tecniche. Ragazzi, vogliamo andare ad analizzare l'operato di Scariolo e di Messina? Tatticamente ci ridono in faccia. E questo ovviamente vale anche per un giornalista, perché proprio quando io alleno, tra virgolette, il playground di Giardini Margherita mi rendo conto di essere null'altro che una simpatica macchietta. Quindi non entro nelle pieghe tattiche. Però l'idraulico, il falegname, il cartolaio e anche il giornalista possono dire determinate cose. Cioè che ci sono state due finali e la squadra allenata da Scariolo ha sempre approcciato malissimo. In un primo caso è rientrata perdendo, nel secondo non è nemmeno rientrata. Questo è un dato di fatto. Dopodiché per me Scariolo è un allenatore quotatissimo, evidentemente è anche bravo, la sua carriera parla, sostituibile come tutti gli esseri umani e come tutti gli allenatori. Io personalmente me lo terrei stretto, gli farei terminare il contratto, non lo prolungherei. Al termine della stagione valuterei il da farsi. Questo è quello che mi sentirei di fare. Arriverei alla scadenza. E parliamo anche di giocatori, me li sono anche un po' segnati per non perdermi. Allora, intanto, altra cosa che secondo me è interessante, Scariolo, che rimane un grande allenatore, però non è riuscito a ottenere nulla da giocatori costosi. Mickey, Lundberg e Magnon. Tutti e tre fondamentalmente hanno fallito quasi. Mickey non mi è piaciuto, si è risvegliato nei play-off, ma da una base che era stata modestissima. Lundberg è stato messo praticamente fuori dalle rotazioni dallo stesso Scariolo e Magnon è stato a guardare. Poi, intendiamoci, Lundberg era partito benino, Magnon ti ha dato una mano in campionato, Mickey ha fatto qualcosa nei play-off, ma sono tre giocatori a cui non do la sufficienza. Tre giocatori che personalmente non confermerei, poi si va a vedere come sono i contratti, perché dopo c'è l'aspetto economico che può avere ovviamente una valenza. Chi terrei? Ah, faccio in fretta. Belinelli, Teododici e Abbas. Secondo me sono giocatori che possono restare, è la cifra che fa la differenza. Se uno mi dice che Belinelli prende due milioni, per me oggi Belinelli, che ha 37 anni e ne compirà 38 nel corso della stagione, è un giocatore da firmare attorno ai 500.000. Teododici condizionante, quel finale, non una partita sbagliata, la serie finale mi ha a tratti fatto pensare che fosse arrivata la capolinea, uno dei più bei play-maker che ho visto in Maglia Virtus, mandarlo via forse non sarebbe sbagliato, ma sarebbe una rinuncia terribile, perché questo giocatore ci ha letteralmente incantato. Chiaramente un giocatore che viaggia sul milione e mezzo, che ha un anno in meno di Belinelli, e che non ha fatto una bella serie finale, secondo me è da confermare attorno anche lui ai 500.000. Mi dicono che chieda un milione, a quella cifra non lo terrei. Anche Abbas, da italiano ovviamente, dovrebbe stare secondo me attorno a quelle cifre, mia sensazione personale. Poi chiunque potrebbe fare una comparazione con altri giocatori, ma grande impatto difensivo, poco feeling per il canestro, un infortunio che l'ha tenuto un anno e mezzo fuori dal campo, bisogna guardare molto anche al portafoglio. Dopodiché, io terrei logicamente giocatori come Hackett, come Geleje, Schengheglia, Cordinier e Paiola. Si può discutere di cifre, si può fare quello che si vuole, ma questi giocatori per me potrebbero tranquillamente restare. Attenzione però che bisogna comprare dei giocatori importanti, perché io non so quanto interessi il prossimo anno arrivare, non quattordicesimi, ma undicesimi. Si vuole andare nei playoff? Abbiamo discusso di chi si può tenere. Beh, cominciamo a discutere di chi può arrivare. Non sto parlando dei nomi, sto parlando del livello dei giocatori. Qui ci vogliono tre elementi di primissimo piano. un playmaker dominante, un pivot veramente importante e una guardia titolare. Ok? Questi sono i giocatori che secondo me alla Virtus non possono mancare. Dopo possiamo discutere la guardia ala, le caratteristiche, però ci vuole gente che difenda, gente che faccia canestro, gente che prenda rimbalzi, gente che possa intimidire in aria. Questo se vuoi pensare di puntare con convinzione ai playoff, perché adesso hai visto qual è il livello. La Virtus comunque c'è, vedremo se ci sarà Scariolo come allenatore, il livello rimane elevato, probabilmente vivremo un'altra finale scudetto, Milano-Bologna. Io continuo a dire Virtus che non si è presentata in finale, ma continuo a dire complimenti a Milano che ha vinto lo scudetto. Poi capiremo quanto sia stata Milano ad annichilire la Virtus, quanto la Virtus invece si sia presentata, ribadisco, con le ciabattine invece delle scarpe allacciate. Rimane il fatto che la Virtus lo scudetto non l'ha vinto, Milano sì. È uscita con l'onore delle armi come risultato della serie 4-3 per Milano? Sì. Come finale, gara 7, no. Però, è una Virtus che ci ha regalato emozioni. E al di là di tutte le polemiche a caldo, ricordatevi sempre che questi giocatori li abbiamo idolatrati a gara 6 dicendo spettacolari, grandissimi, adesso si va, Milano si vince. Sono arrivati i cotti? Pazienza. La certezza che ho che passata l'emozione negativa della finale persa, adesso si deve solo incoraggiare dei giocatori che hanno delle qualità e che hanno fatto vivere delle bellissime emozioni. Alcune, purtroppo, anche negative come l'ultima. Ma il brutto va dimenticato, bisogna costruire il bello.